Ti succederà sicuramente di dover tagliare piccoli particolari di stencil adesivo oppure dei nastrini direttamente su superfici non assorbenti come caschi, serbatoi, cover di specchietti o altre superfici simili. Ti insegno un piccolo trucco per evitare di rovinare la vernice o ancora peggio la superficie sottostante. Stai ultimando una decorazione dove hai bisogno di un taglio nel punto dove i due nastrini si intersecano. Solleva le due estremità dei nastrini e inserisci sotto a questa punta un pezzettino di acetato. Fai aderire i due capi del nastro e delicatamente incidi il primo e il secondo. Rimuovi l'acetato e fai aderire di nuovo i due estremi che prenderanno la forma di una punta alla superficie. Guarda i risultati del lavoro finito alla mia sinistra e alla mia destra. Ciao, alla prossima e forza con l'aerografo!